ciao G Periscope ciao ragazzi ciao ragazzi siamo qui sempre da Cronoshop e stavolta prepariamo uno dei bellissimi Michael Kors che stanno andando moltissimo ormai Michael Kors è affermatissimo a livello mondiale e fa modelli di orologi effettivamente molto particolari questo infatti è evidente il doppio colore dorato e silver con un quadrante brunote molto particolare è un modello comunque importante che ne pensate? mi piace? ciao Bubo molto bello il bracciale in acciaio di questo orologio davvero bello chiusura con pulsanti di sicurezza facciamo vedere bene pure il fondello un orologio chiaramente in acciaio resistente all'acqua 10 atmosfere come indicato sul fondello quello di Michael Kors ha uno stile veramente particolare si ma sta andando tantissimo in tutta Europa e adesso anche in Italia si iniziamo con la preparazione allora iniziamo con innanzitutto legiamo le pellicole sono le 2 e 9 oggi è 26 sono le 2 e 09 perfetto intanto andiamo a compilare la garanzia ciao Alessio come sempre vi ricordiamo che il cronoshop è un ripenditore ufficiale Michael Kors pertanto tutti i nostri prodotti saranno accompagnati dalla garanzia ufficiale italiana valida per due anni ciao Matteo ciao Icon questa qui è la garanzia stiamo compilando vi facciamo vedere l'orologio ecco qua la garanzia abbiamo completata che ne pensate vi piace? che ne dite? intanto mettiamo l'orologio all'interno sotto la garanzia poi l'orologio molto bella è anche la confezione molto molto elegante ecco facciamo vedere bene perfetto grazie a tutti